A nostro Peppe Di Stefano che abbiamo considerato un po' l'ombra di Maxi Lopez, Peppe sei pronto? Ci chiedono cosa mangerà questa sera da Giannino Maxi Lopez, te la senti? Se andrà da Giannino? Io credo che stasera andrà da Giannino solo per festeggiare, perché in caso di esito negativo della trattativa, esito negativo per quanto riguarda Maxi Lopez e non per quanto riguarda il Milan che semmai dovesse far saltare Maxi Lopez perché al Milan arriverebbe Tevez. Scherzi a parte, Maxi sta vivendo un momento assolutamente particolare, lo abbiamo prima scortato dalla sede di Via Turati fino all'albergo, all'NH Hotel di Piazza Repubblica, sorrideva, diceva, crede sicuramente di essere un po' più vicino al Milan, sa che è partita questa mattina un'ennesima mail da parte di Adriano Gagliani per direzione Manchester, sponda ovviamente i siti per Carlito Stevez, sa che deve aspettare almeno alle 17.30 e sai che alle 19 il suo contratto potrà essere depositato in Lega, ma non ha certezze e per questo vive davvero sul filo del rasoio già da lunedì. Sono quattro giorni estenuanti.